Legge a Varsavia-Napoli termina con un 1-4 per il Napoli, questa partita di oggi, una partita che porta la vittoria tutta tutta nelle mani del Napoli. Eppure il Napoli ha giocato fuori casa, no? Dico giusto? Certo che sì. E proprio questo giocare fuori casa per molti è un aspetto, diciamo così, essenziale. Beh, non mi sembra così essenziale, infatti, a Vento, pur giocando fuori casa. Ma detto questo, la partita come è stata? È stata abbastanza buona, no? Il Napoli ha veramente compiuto una partita diretta e soprattutto è arrivata al sodo fin da subito. Va bene? In particolare i quattro gol sono stati a firma di Zelinski al 51esimo del secondo tempo, rigore. Diles Mertens al 75esimo su rigore, Irving Lozano al 78esimo del secondo tempo e Adam Onas al 90esimo, quindi praticamente alla finale della partita, in fin di partita. Ecco, il Napoli ha sfoderato tutte quelle che sono le armi più importanti che ha, tenacia, potenza, attacco e soprattutto una fisicità imponente. La legge a Varsavia non è riuscita a fare grandi cose, infatti ha fatto soltanto un gol al decimo minuto di gioco del primo tempo. Termina così questo risultato. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale, non è la tua italiana o commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.